Benvenuti a tutti in un nuovo video, oggi ho fatto un nuovo make up questo make up sta bene sia per gli occhi azzurri che per gli occhi marroni sicuramente alcuni di voi non terranno opportune questa combinazione dei colori con questo giallo all'interno dell'occhio e con questo color fucsia rosa sulle palpebre mobile non tutti può piacere, questo me ne rendo conto però a me mi è piaciuto un sacco e volevo farlo già da tempo questo look però non ho mai avuto la possibilità di poterlo realizzare e per questo oggi finalmente sono riuscita a fare un nuovo video e vi voglio proporre questi occhi in primo piano spero che il video vi possa piacere, continuate a iscrivervi al mio canale iscrivetevi su Instagram come StellaIncantevole81 vi potete trovare lì e sulla mia pagina di Facebook vi do un bacione e vi lascio al video, ciao! iscrivetevi al canale 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 I'll just close the door and go for a closer run Close a run, closer run, closer run Right on time they give me some song Close a run, closer run I approached you with a loaded gun Didn't know that you were carrying a similar one But all the pain blew away like a bolt spray in the sun In your arms I can't get close enough When you're around I've got butterflies that never stow And I know that I'm the only one I should give you credit waiting out the phone I miss you but this time I know the feeling You know me and I'm happy to be waiting When the light is out, nowhere to be found I'll just lock the door and go for a closer run Close a run, close a run, close a run Right on time they give me some song Close a run, close a run Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm Grazie a tutti 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 Grazie a tutti